Cari spettatori. Benvenuti nel nostro spazio dedicato alle ultime notizie. Oggi discuteremo di un evento spiacevole che ha coinvolto la nota coppia Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La loro casa a Roma è stata visitata da ladri. Portando via gioielli dal valore complessivo di 70.000 euro. Il furto è avvenuto ieri sera mentre la coppia non era in casa. La scoperta è stata fatta intorno alle 20 di martedì sera. Quando le volanti del commissariato di polizia di Ponte Milvio sono intervenute dopo la segnalazione. Una finestra forzata ha evidenziato l'accesso non autorizzato. E si presume che l'allarme non fosse attivo al momento dell'uscita di Chiara e Mattia. Chiara Nasti. Nota influencer con oltre 2 milioni di follower su Instagram. ha condiviso molti aspetti della sua vita. Ma ha mantenuto riservato l'episodio del furto. Continuando a seguire il suo. Piano editoriale. Nonostante l'esperienza spiacevole. Chiara ha proseguito nella promozione del suo brand. Dimostrando una notevole forza e resilienza. La polizia sta attualmente indagando sull'accaduto. E la coppia ha ricevuto il sostegno della comunità online. Condividete la vostra solidarietà nei commenti e fateci sapere cosa pensate di come Chiara sta affrontando questa situazione. E se non l'avete ancora fatto. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e discussioni. Cliccate sul pulsante di iscrizione e unitevi alla nostra community. Grazie per essere con noi oggi. E ci vediamo nel prossimo video.